Ben trovati al Tg Sport di Noi TV, apriamo con la Lucchese che torna a vincere in casa e prende una boccata d'ossigeno dopo un periodo sicuramente difficile, ma attenzione perché mercoledì c'è la trasferta a Pontedera. Dopo la delusione dell'eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia contro il Padova, la Lucchese è tornata alla vittoria in campionato. Al Portelisa i rossoneri hanno superato il Rimini per 2-1 al termine di una gara giocata con il giusto piglio e la necessaria determinazione. Per l'occasione Gorgone ha riportato Guccher a centrocampo affidando la difesa a Tiritiello e Sabbione. La Lucchese ha trovato il vantaggio su palle inattiva con un imperioso stacco di testa di Quirini che ha finalmente tornato al gol, poi ha raddoppiato proprio con l'Austiaco che con una copertura preventiva e una lettura intelligente di una ripartenza del Rimini ha creato i presupposti per siglare il 2-0. A 10 dalla fine poi un malinteso fra Chiorra e Fazzi ha spianato la strada al 2-1 dei Romagnoli facendo vivere un finale al Cardiopalma e 1800 del Portelisa condito anche dall'espulsione di Gorgone. Nemmeno il tempo per godersi i tre punti che allontanano la Pantera dalla zona play-out che già si torna in campo perché mercoledì la Lucchese sarà di scena al Manucci di Ponte d'Era nel turno infrasettimanale. E restiamo sul calcio e vediamo come è andata la venticinquesima giornata del campionato di Serie D per le squadre della provincia di Lucca. Il Real Forte Querceta ha perso fra le Muramiche 2-1 con il Givi Borgo. I ragazzi di Francesco Buglio hanno subito il gol con l'Epri al 42esimo, poi è arrivato il raddoppio di Carcani nella ripresa e la rete di Podestà sul calcio di rigore è arrivata al 94esimo. Diversi sono state comunque le occasioni non sfruttate dal Real Forte Querceta. Il Selavezza Pozzi ha perso in casa con il Livorno, è arrivato al buon riposo senza i tifosi al seguito con il punteggio di 2-1. La rete ospite è arrivata al settimo con Nardi ma Benedetti era riuscito per i locali a pareggiare su rigore al 37esimo del secondo tempo. È arrivato poi al 51esimo il gol partita di Tanasa per il Livorno per la sesta sconfitta in sette turni per il Selavezza Pozzi. Il Tau Alto Pascio si è dovuto inchinare 1-0 al Follonica Gavorrano. La rete di Pignatta dopo due minuti dal via non è stata recuperata da parte dei padroni di casa che sono riusciti a conquistare tre punti davvero importanti. La squadra locale non è riuscita a recuperare lo svantaggio di fronte del resto alla miglior difesa del campionato. In eccellenza sconfitta della Massese in casa con lo Zenit Prato 5-0, River Pieve Ciacina 1-1, Perignano Camaiore 0-1. In promozione alleanza giovanile Pietrasanta 1-2, Settimello Pieve Fosciana 1-1, Castelnuovo Viaccia 0-0, Ceretese Viareggio 1-0, Riposava il San Piero a sieve. E adesso l'Hockey con l'ultima vittoria. Il Forte dei Marmi si è matematicamente qualificato ai quarti di finale dei play-off. L'Hockey forte dei Marmi supera fra le mura amiche il Sandrigo con il punteggio di 7-4 dopo il pareggio di Follonica e la sconfitta in Champions League. Rosso-Blu che devono rinunciare ad Ambrosio infortunato. Dopo che i padroni di casa avevano sfiorato il gol passano i Veneti in vantaggio con Lazzarotto. Ma dopo un palo di Gillette e Tornera a pareggiare. Poi Jean Galbas sigla una doppietta col 3-1 in mano dopo il primo tempo i Rosso-Blu voltano sul 6-2. Con due reti di Pedro Gillette e quella di Cinquini, inframmezzate dal gol di Brendolin. Il Sandrigo realizza altre due reti firmate dall'ex Cdc Moiano nel finale dopo la settima di Compagno. Netta vittoria anche del Trissino sull'Odi 7-1. In classifica rimangono tre punti di distanza ma allungando sulla coppia di Terze, Follonica e Sarzana. Manca un solo punto per Trissino per assicurarsi uno dei primi due posti. Mentre il Forte dei Marmi è già sicuro di terminare la sua stagione regolare tra i primi due. In serie A2 bel pareggio 4-4 in rimonta per il Forte dei Marmi sulla pista di Follonica. È tutto per il TG Sport. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con i programmi di Noi TV.